L'Orlandira Basket si rafforza sotto le plance con l'ingaggio del centro Baie-Mudiu-Diouf. 22 anni proveniente dalla Vaporart Bernareggio in Serie B, dove viaggiava quasi in doppia-doppia di media con 10 punti e 9,2 rimbalzi in 13 partite, Diouf, 2,03 metri di altezza, colmerà il vuoto sottocanestro lasciato da Abdel Fal. Devo dire che siamo molto contenti di aver chiuso questa operazione, che non è stata un'operazione semplice, perché andare sul mercato dei lunghi tra febbraio e marzo è sempre complicatissimo, tanto più lo è in una stagione così particolare. Siamo riusciti a prendere Diouf, che è un giocatore che seguivamo da tempo, e quindi siamo molto soddisfatti di questa operazione. Consentimi di dire una cosa, questa operazione insieme a quella che la scorsa settimana ha portato Alberto Conti all'Orlandira Basket è un segnale, vuole essere un segnale che l'Orlandira Basket non appartiene all'Orlandira Basket vivacchiare. L'Orlandira Basket vuole chiudere questo campionato nel migliore dei modi, e in questo senso si inserisce lo sforzo, che ancora una volta ha fatto la proprietà di prendere due giocatori così importanti, due dei migliori giocatori della Serie B, per dare proprio il senso, soprattutto ai nostri tifosi, che per le vicende che conosciamo non possono essere fisicamente vicini a noi, dell'ambizione dell'Orlandina, di Capodorlando, che è sempre assolutamente viva. Intanto i bianco-azzurri si preparano alla doppia trasferta di Biella e Milano. Orlandina che scenderà in campo giovedì a Biella alle 20.30 e sabato alle 14 al Pallalido contro l'Urania e Milano. Sono due partite importantissime perché la classifica è estremamente fluida, si può andare in fretta a scalarla con due vittorie, si può ripiombare giù con due sconfitte, Queste sono due partite assolutamente fondamentali che ci diranno dove possiamo andare poi nella seconda fase e eventualmente se possiamo ancora centrare i play-off, cosa a cui noi non rinunciamo assolutamente a provare, oppure se dovremmo difenderci e cercare di portare a casa una salvezza.